Come dovete poter farlo capire il centro-diamo lo in terra. Non ci sapete, in campo il centro-diamo lo è stesso, tutto, tutto di tempo. In questo momento c'è una situazione drammatica in Europa, c'è un gruppo di persone mai elette come la lagarda del Fondo Monetario Internazionale che stanno decidendo le sorti di un intero popolo, quello greco, che ogni giorno rischia di arrivare al tracollo economico. Nonostante ciò il popolo greco ci sta dando un grande segnale di coraggio e di dignità con una semplice parola, occhi, che vuol dire no, che vuol dire che davanti ai ricassi della finanza e dell'economia il popolo greco fida questo ricasso e dice la nostra dignità non è in vendita. Per questo la battaglia dei greci non è solamente qualcosa che accade lì lontano, ma è anche la nostra battaglia. È una battaglia di democrazia che non è una battaglia per fine fine sulle cose dite, perché altrimenti il fischio è il popolo greco, è l'Italia, è il popolo greco, è il popolo greco, è il popolo greco. Mi dispiace, due amici, due, due amici. Mi dispiace, mi dispiace. Mi dispiace anche a me? Non, non, mi dispiace. No, non, sia, 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 sia. Prego, prego. Prego, Grazie a tutti.